La mancanza di due aule sta creando disagio alla scuola Giovanni Pascoli situata in Viovidio ad Aversa costringendo studenti e famiglie a fare i conti con i doppi turni, con lezioni che si prolungano fino al pomeriggio. Ieri mattina un gruppo di genitori ha richiesto un incontro urgente con il sindaco per chiedere una soluzione rapida e definitiva. C'è stato riferito che dalla prossima settimana iniziano i doppi turni, prolungherà per tutto l'anno scolastico e questo non va bene, perché i ragazzi di pomeriggio hanno chi attività sportiva, i genitori devono andare al lavoro e magari non sanno a chi li devono lasciare, diventa un problema comune. La decisione di adottare i doppi turni è stata annunciata il giovedì dalla dirigente scolastica Filomena Simonelli. Il motivo è legato al ritardo nei lavori presso il plesso Linguiti, dove l'aula lucana è in fase di ristrutturazione per ricavare due nuove aule destinate alla scuola media, un intervento necessario dopo il trasferimento degli uffici della segreteria nella sede centrale di Via Ovidio. Presenteremo un'interrogazione sia al dirigente che all'assessore competente, perché poi sono stato presente all'incontro con le mamme e le mamme giustamente hanno sollevato le perplessità in merito a questi doppi turni che poi l'orario scolastico andrebbe a finire alle 18.30 in un periodo invernale per i ragazzi, i bambini è alquanto difficile. Insomma, un'altra tegola si abbatte sull'istituto comprensivo già messo alla prova dall'accorpamento con la Linguiti avvenuto a settembre.